ciao ragazze ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutorial oggi vedremo come impaginare gli elaborati finali diciamo quelli definitivi e su un'unica tavola di formato grande per elaborati intendo dalle piante alle sezioni ai prospetti compresi i dettagli ecco per comodità io utilizzerò i dettagli realizzati nei video tutorial precedenti se siete arrivati a questo punto significa che avete prodotto già buona parte se non tutto tutti gli elaborati del progetto dalle sezioni come vedete qui che abbiamo impaginato durante il percorso in pagina in formato a3 oggi invece andremo ad impaginare tutti questi elaborati su un'unica tavola come vi dicevo di un formato più grande noi non utilizzeremo un formato uni ma utilizzeremo un formato particolare un 900 per 900 che per certi versi si avvicina alla zero per altri invece no è un po più diverso però diciamo che è un formato noi l'abbiamo definito di esposizione un formato da utilizzare per esporre il proprio progetto e non un formato invece pensato per essere piegato è un formato poi per ottimizzare anche la dimensione del nostro del foglio del nostro plotter il formato 900 per 900 lo trovate all'interno del template che trovate qui sul mio sito giacomomole.it all'interno del free resource sulle risorse gratuite troverete questo nuovo pulsante che pursa dove potete scaricare il nuovo template del brezzoni del 2020 vi scaricherete un file zip scaricherà il sito dove dovete estrarre col tasto destro estrai qui il file dvg contenuto all'interno dal file dvg non lo apriamo per niente bensì andremo ad estrapolare il layout che è contenuto in quel template qualora voi avesse cancellato quel layout dal template iniziale possiamo appunto andarlo a prendere da questo template del 2020 basta andare a tasto destro sul layout da modello poi andremo a selezionare il formato dvg andiamo a selezionare il nostro file che abbiamo appena estratto e poi andiamo a selezionare il layout tra quelli disponibili numero 11 900 per 900 il layout poi comparirà tra i vostri layout del vostro file di autocad come vedete già include già una griglia di riferimento inserire su un layer ha creato appositamente bloccato e non stampabile dopo averlo inserito la prima cosa che andiamo a fare è andare ad inserire a sua volta il cartiglio il cartiglio come sapete lo trovate tra i blocchi nel ribbon inserisci lo posizionate non inserite i dati per la prima volta ma cliccate su ok per poi adattarlo a questo formato qui con la freccia che troverete in alto a sinistra è un blocco dinamico con degli attributi in una volta poi adattata alla forma del nostro layout clicchiamo due volte per andare appunto ad inserire come sto facendo adesso tutti i vari dati che ci richiede nei nei definiti appunto nei relativi campi che vi chiede appunto di compilare no dal numero della tavola il nome del progetto il nome vostro dello studente della studentessa la data la scala in questo caso sono varie le scale la classe e i nomi dei professori poi anche il nome della materia e poi vi chiede altre informazioni che io in questo video tutorial tralascio però se voi avete delle informazioni in più riguardanti il vostro progetto se avete stabilito un lotto ben preciso che ha un comune così come una provincia una via potete benissimo inserire quei dati in questi ultimi campi io per adesso cancello e lascio diciamo il cartiglio in questo modo qui per adesso possiamo procedere con la realizzazione delle finestre che andranno a contenere praticamente i nostri elaborati o troverete anche se non lo trovate create un layer io l'ho chiamato finestre non stampa ovvero delle layer non stampabile quindi ho disattivato la stampa perché voglio che i bordi delle queste finestre dove verrà contenuto l'elaborato non devono essere appunto voglio che non devono essere stampate nell'elaborato finale ovvero nel pdf quando andrò ad esportare non dovranno risultare ecco vado a fare una prima finestra dal ribbon layout comando rettangolare dove andrò ad inquadrare in questo caso la pianta della copertura ok il progetto ci è stato gentilmente prestato da un vostro compagno di quarta ecco questo qui è un video tutorial adatto ai ragazzi agli studenti e alle studentesse di quarta superiore quindi vado ad inquadrare la mia pianta nella copertura in questo caso ho selezionato già la scala in basso a destra vedete che posso se utilizzo lo zoom devo adesso reimpostare quindi inquadro prima la pianta della copertura eccola qui e scala un accento perfetto vedete che la finestra con la griglia già prevista non non basta per contenere tutta la pianta quindi semplicemente andrò ad allargare la finestra dell'elaborato ripeto è un formato pensato per essere esposto non è un formato per essere poi piegato quindi è un formato praticamente da andare a appendere a parete per esporre il proprio progetto copio la finestra e cambio l'elaborato all'interno quindi mi sposto clicco due volte all'interno della finestra mi raccomando ragazzi cliccate due volte all'interno della finestra per spostarvi all'interno dello spazio modello e inquadrare l'elaborato che vi serve clicco due volte all'interno della finestra e inquadro la pianta del piano terra proseguo poi con la copiare una terza finestra imposto la scala e inquadro la pianta del piano primo in questo caso stiamo parlando di un edificio a più piani attenzione proviamo a fare un'anteprima di stampa noterete che nonostante io adesso vi mostro abbia impostato lo stile di stampa monochrome guardate che vi mostro gestione impostazione pagina modifica vedete monochrome nonostante lo stile monochrome non sia neanche stato modificato ovvero tutti i colori risultano in nero a parte questo arancione e tutti in nero sull'anteprima di stampa compaiono i elaborati a colori perché? perché è impostato lo stile di visualizzazione ombreggiato con spigoli o concettuale dovete impostare per farlo comparire in monochrome e quindi neanche in nero dovete impostare lo stile di visualizzazione anzi la modalità di visualizzazione in right frame ok? wire frame 2D wire frame 2D anche in questo caso in tutte e tre le finestre adesso noterete che nell'anteprima di stampa tutti gli elaborati appunto compaiono vengono in bianco e nero ok possiamo proseguire io ho già fatto in realtà ho già pensato questa tavola qui sulla destra di questa pianta andrò ad inserire la sezione per poi sviluppare tutti i prospetti nella fascia più bassa rispetto a questi primi elaborati nella fascia centrale diciamo vado ad inquadrare qui la sezione io ne ho una poi ne potreste avere anche più di una attenzione quando andrete ad impaginare i vostri elaborati è probabile che vi sia richiesto di andare ad apportare delle modifiche ovvero se cambiate le scale di impaginazione sicuramente dovete apportare delle modifiche alle dimensioni del testo delle quote e così via ma anche ad esempio alle posizioni come in questo caso alle posizioni delle quote perché magari ho una finestra con delle dimensioni ridotte in cui devo far entrare in cui devo far stare praticamente il mio elaborato quindi magari sarò costretto a spostare a rivedere un attimo gli elaborati quindi gli elaborati arrivati a questo punto ce li avete già tutti pronti perché li avete già impaginate negli step precedenti però qui li devo un attimo magari andare a rivedere a risistemare per farsi che entrino perfettamente e si adattano a questo tipo di impaginazione qui ok? ripeto la griglia che trovate con le linee verde di riferimento poi come vedete non lo sto rispettando quasi per niente praticamente perché gli elaborati non mi permettono con questo tipo di scala qui non mi permettono di andarla a rispettare potrei andare ad impostare una scala diversa magari una a 200 ma gli elaborati poi risulterebbero troppo piccoli quindi mantengo la scala 1 a 100 perfetto fatta questa prima fascia quindi comprende le prime piante anzi le tre piante e la sezione proseguo con l'inserimento dei prospetti i prospetti li inserisco in questa fascia qui inferiore rispetto alle piante faccio sempre una copia della finestra della prima pianta poi doppio clic all'interno della finestra e mi sposto andando ad inquadrare il primo prospetto vado ad inquadrare in questo caso il prospetto sud posto la scala 1 a 100 vado ad occhio così vado a centrare rispetto alla finestra vedete che si vede il prospetto sotto non importa basta ridimensionare la finestra in modo da non far vedere praticamente il prospetto che non mi interessa o la parte del prospetto che non mi interessa dopodiché faccio una copia e vado ad inquadrare il secondo prospetto vado da sud proseguo con l'ovest anzi sono scusate l'est e poi ad occhio attenzione anche qui mi raccomando quando siete all'interno di una finestra e non riuscite più ad uscirne basta cliccare in basso su modello per tornare di nuovo sullo spazio carta perché a volte rimanete bloccati in questo limbo in questo limbo che avete fatto magari avete zoomato un po' troppo e non riuscite più ad uscirne fuori basta cliccare sulla scritta modello quindi inquadrato il prospetto S proseguo col prospetto Nord anche qui mi avvicino per far corrispondere la linea di terra clicco poi su spazio modello per uscire dalla finestra e anche qui devo ridimensionare la finestra per non comprendere altri oggetti che non mi interessano in questa finestra ultima finestra qui andrò ad impaginare invece il prospetto Ovest eh no scusate il prospetto Ovest sì è giusto anche qui mi avvicino per far corrispondere la linea di terra poi per uscire dalla finestra clicco su modello in basso ecco qui eh impaginati inseriti i quattro prospetti ultime sistemazioni i quattro prospetti ormai adatto anche questa finestra al resto delle eh delle finestre dei prospetti e vado a fare un altro anteprima di stampo per vedere cosa sta succedendo all'interno della mia tavola devo dire che il risultato non è male non è assolutamente male abbiamo già le piante abbiamo già i prospetti e diciamo che la tavola sta iniziando a prendere forma la parte eh inferiore la dedicherò all'inserimento dei dettagli costruttivi abbiamo speso tanto tempo che è giusto adesso valorizzare il lavoro fatto quindi andiamo ad inserire all'interno di questa di questa area tutti i dettagli costruttivi inizio io con le tabelle le tabelle che contengono tutti gli strati della copertura e della parete eh che compongono eh i miei pacchetti e poi a sua volta eh il dettaglio costruttivo che andrò ad inserire quello del pacchetto eh scusate quello che eh praticamente che include l'attacco pare di essere una copertura e naturalmente di tutti questi pacchetti e di tutti questi anche dei dettagli delle diverse tecnologie dall'XLAM al telaio le trovate sul canale YouTube trovate tutti i video tutorial con che vi spiegano un po' come sviluppare il dettaglio 2D 3D e anche eh anzi il pacchetto 2D 3D e anche il dettaglio poi faccio una nuova finestra in questo caso non utilizzo la finestra il comando rettangolare ma utilizzo il comando poligono poligonale anzi scusate poligonale mi permette di fare delle finestre con delle forme che eh decido io no quindi vado a selezionare il comando poligonale e poi vado a cliccare i diversi punti che mi interessano per fare una una finestra ad esempio come questa qui che sto facendo io che praticamente l'ho pensata adattandola pensando anzi al dettaglio costruttivo quello della parete e della copertura vedete è fatta nella stessa forma eh quindi la il comando poligonale del layout mi permette di fare delle finestre con forme diverse rispetto al rettangolare ecco una volta chiusa la poligonale poi ricordate l'ultimo click quando si incontrano le due linee l'inizio e la fine cliccate il tasto in video anche qui mi assicuro che la modalità di utilizzazione sia wireframe e vado a vedere una prima diciamo un'ulteriore anteprima con questo dettaglio inserito ecco vedete che non è affatto mai il dettaglio l'ho inserito in scala 1 a 5 mentre su quest'altra parte sulla destra andavo ad inserire invece i pacchetti che compongono quel dettaglio direte ma cosa serve inserire pacchetti se ho già inserito il dettaglio in realtà i pacchetti come ben sapete per chi ha visto i video tutorial precedenti sono sezionati in modo diverso cioè in modo trasversale rispetto alle sezioni che vedete nel dettaglio ovvero i pacchetti sono sezionati il dettaglio è sezionato nel senso verticale della parete come vedete mentre i pacchetti ad esempio quello della parete è sezionato in senso orizzontale quindi vedrete una prospettiva differente diciamo dello stesso pacchetto nella parte in alto vado ad inquadrare il pacchetto della copertura nella parte bassa invece vado ad inquadrare il pacchetto della parete vado a sistemare in modo da adattarle agli spazi che ho e vado a fare un'altra anteprima vediamo come viene perfetto vedete naturalmente le lettere sono le stesse delle lettere del dettaglio e sono le stesse lettere che trovo nelle tabelle ogni lettera indica uno strato ben preciso con uno spessore predeterminato ora in questa ultima parte nella parte in basso a destra andrò ad inserire invece lo sviluppo tridimensionale dei nostri pacchetti anche qui abbiamo visto come si svolge lo sviluppo tridimensionale tramite video tutorial che trovate sul sito vado a cambiare non metto la vista dall'alto ma una vista assonometrica in questo caso su Dovest assonometrico utilizzo ViewCube che potete attivare e disattivare come avete appena visto da quel pulsantino più e vado a selezionare l'angolino del ViewCube per inquadrare il mio pacchetto della parete in tridimensionale e vado a selezionare la modalità di visualizzazione ombreggiato con bordi ok per mostrare i colori che ho scelto per il modello tridimensionale nel riquadro in alto invece vado ad inquadrare il pacchetto della copertura anche se in realtà la copertura pone dettagli ha subito delle modifiche ma io qui non ho avuto modo di andarla a modificare quindi utilizzerò questo qui vado ad inquadrare il pacchetto della copertura in tridimensionale sempre ombreggiato con bordi mi raccomando ecco qui l'anteprima abbiamo quasi terminato della tavola conclusiva del nostro percorso del nostro progetto quindi piante prospetti e tutta la parte dedicata poi ai dettagli costruttivi e qui magari vado un po' ad equilibrare ripeto ragazzi non rispettate appieno la griglia se riuscite bene se non riuscite lasciate stare vado un po' ad alleggerire la parte in alto che era troppo vicino al bordo perfetto direi che ci siamo mancano le scritte mancano le scritte che indicano i vari elaborati dei dettagli le piante le prospetti le sezioni le ce l'hanno già mancano tutte le scritte dei dettagli in realtà io ho già fatto un altro layout dove ho già inserito le scritte dettaglio parete copertura 2D 1 a 5 mi raccomando riportare sempre la scala accanto al titolo dell'elaborato in questo caso io il testo l'ho inserito direttamente sul layout sullo spazio carta non è un testo inserito all'interno di una finestra e quindi all'interno dello spazio modello ma direttamente sullo spazio carta altra anteprima ecco come avete visto io ho escluso da questa impaginazione gli esplosi che ho realizzato dei pacchetti per motivi di spazio per motivi di una scelta che ho fatto io mi raccomando ragazzi voi siete liberi di scegliere gli elaborati da inserire se sempre nel mio caso non sono non ne entravano gli esplosi e li ho evitati ecco questa qui esporto in pdf questa qui è la tavola definitiva come vedete mi raccomando ragazzi volevo precisare questo qui è un tutorial diciamo per darvi delle indicazioni di impaginazione non è detto assolutamente anzi non dovete impaginare per forza in questo modo qui ovvero le piante e i prospetti potete ad esempio utilizzare la fascia non so la fascia alta per i dettagli oppure la fascia a destra per i dettagli e tutto la fascia a sinistra per gli elaborati ecco piena libertà su questo aspetto qui spero vi sia stato utile ragazzi ci vediamo presto buon lavoro buon lavoro